Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video su Rainbow Six ragazzi, bentornati a tutti Oggi siamo qua di nuovo su Rainbow ragazzi, perché ho visto che vi piace molto Rainbow Vedo che le visualizzazioni, vedo che le fa, quindi immagino che vi piaccia questo gioco Bene, ovviamente io ragazzi continuerò a portarlo, poi se volete anche qualche live Ah qua intanto siamo in una classificata come avete visto, sono alle 103 Se magari volete delle live ditelo nei commenti, posso farle su Twitch o su Youtube Secondo di come siete più comodi, io preferirei su Twitch perché viene meglio, la live viene meglio Però se volete anche su Youtube la posso fare Poi vi lascio il canale in descrizione di TikTok perché ho un canale TikTok e quando arrivano mille follower Andrò a streamare anche su TikTok, quindi mi raccomando ragazzi Niente, mi raccomando Tipo così dai, va bene, va bene lo stesso Olè Perfetto, perfetto, perfetto Madonna Ragazzi sta un po' nella merda Poi che Una Pompi Tocca Pompi 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 Perchè parla questo qua continua a parlare porco 2 fammi concentrare bro mi metti ansia Mannaggia veramente che è incredibile credibile persone che ti parlano in continuazione basta Ma donna le cavoli e non capisco un cazzo Vabbè raga bella facciamoci storando almeno se ho capito ma Perfetto Dagli brocazia Perfetto Mettiamo uno qua no? Così se le persone arrivano non lo sentiamo Facciamo così Posto Poi Uno qua Mannaggia che arrivano tutti Poi Uno qua Facciamo uno così raga Oh e basta sparare Mannaggia voi Cazzo Madonna si vede qualcuno da qua raga vi giuro Marema cinghialozza C'è il giovane di brava che si prende le nostre cose però Brava Che cazzo è il giovane di brava che si prende tutte le nostre cose? Vabbè bella lì Oh raga calmi Qua non ci sta nessuno Bastardo No ma che Ma perché? Ma non pensavo che Cioè io gioco a remo tutto sto tempo Non sapevo che le mie cose Fanno triggerare il coso di Aruni Veramente sono un coglione Mannaggia raga C'ero nelle scale Questo qua mi dice play safe Io lo puscio come un maiale Ci sta raga Bella per me Scusate ogni volta Prendi pop corn Perché c'ho fame Dai uno uno Ci sta Io andrei verso Sinceramente andrei al basement Però vabbè Seguiamo loro Va bene così E ora chi prendiamo? Ma lei si è di nuovo E' andata bene Prendiamoci lei Che ci sta sempre Comunque ragazzi Questo video lo pubblicherò Quando io sarò in cita con la scuola Quindi Lunedì, martedì, mercoledì Sono in cita Quindi Magari farò un video giovedì Lo farò uscire venerdì Per esempio Questo lo farò uscire magari lunedì Vedremo ragazzi Vedremo O martedì Devo vedere Sento che sono in cita con la scuola Sto facendo questo di domenica Così magari lo faccio Lo pubblico Poi lo pubblico Che ne so Vorse martedì Facciamo così Poi Ecco Poi questo lo mettiamo qua Che qua lo sentiamo se qualcuno arriva Che bastardo Eh, ti ho visto bro Ho visto uno Ho visto uno sicuramente Devo essere sincero Cioè ho visto dei passi di qualcuno Vabbò Vabbè ne è così Grande bro Facciamo uno qua No, perché non abbiamo preso Le robe per elettrificare Cazzo Ci pushano da qua ora Ecco appunto Delle brici in insight B Wittibana Ecco appunto Mo ci scoprono in 30.000 Regà Bene Bene così Bene così Stavo per essere inculato malissimo Però vabbè Va bene lo stesso Cazzo Cazzo è morto qualcuno qua Se ho avuto qualcuno Gli sparo come non so cosa Cazzo arriva da qua Stairs Per esempio Per stare la mina di sparo Per esempio Non sento Lo stupro Dai cazzo Cazzo Ah è entrato di là Codo Codo Ah Se comunque sono scemo Pensavo aveva preso Una mina di là Io ho sparato di là Invece aveva preso questa qua Sono proprio un coglione Vabbè bella per noi Quanto siamo? 2-1 Ci sta Mo siamo in attacco Questo è un problema Però ci proviamo lo stesso Allora In teoria Dovrebbero essere Primo piano Teoria Sono sempre In primo posto Vanno tutti sempre a primo piano E appunto Sono qua Non posso spottarli Perché Ci sta Ores Che Chilla i droni Bastardo lui Da che ce la faccio Da che ce la faccio Codo Perfetto No Chi è che è morto Ah c'era uno lì Primo piano Voglio fare una cosa Se ci riesco Non l'ho spaccata Ci ho provato Da vabbè Regà No Avevo sentito Pensavo c'era lì Avevo sentito qualcosina Invece era proprio sopra Da vabbè Vaffanculo Non ci credo Regà Non ci credo Non posso credere Mannaggia a me Nice Dai che c'è via l'ultimo Ravraga Oh siamo tutti un team Forti un po' tutti 3 3 3 3 5 C'è un po' tutti pari A me non c'è uno Che fa tutto E uno Che non fa un cazzo Allora in teoria Se non sono scemi Sono al piano terra Se non sono scemi Però loro saranno stronzi Saranno andati al piano Dove hanno perso Puto Tagli Roma Tagli Roma Tagli Roma Figlio di puttana Sponkill car Madonna Guarda che provano a sponkillare tutti Che figli di troia Ci sta nessuno Ho visto una passare Tagli Tagli Non ho fatto un cazzo In sto round Posso dirlo Tagli Tagli Nice guys Nice team Vabbè ragà Easy Cioè ormai Ormai Tutti i video che faccio Le vinciamo Molto bravo Minchia Porca puttana Ragazzi Si è rincazzato Questo Si è rincazzato Questo qua Ok Allora ragazzi Come vedete qua Sono 103 ancora Per poco però No vabbè Dai Di pochissimo Di pochissimo 102 Vabbè ragazzi Spero che questo video Si è piaciuto Se così Fosce lasciato un bel like Se volete al canale Mi raccomando Andatemi a seguire tutti Su tiktok Che inizierò la live Appena arrivo A mille follower Perché se no Non posso farle E niente Ditemi se volete Anche le live su twitch E niente Noi ci becchiamo A un prossimo video Bene ragazzi